Ciao a tutti ragazzi sono Adri, bentornati sul canale, intanto buon anno a tutti, primo video del 2021, quarto anno sul canale e ok ragazzi siamo ancora alla giornata 13 perché sono indietro con i lavori perché ragazzi avevo pubblicato la giornata 12 tra Natale e Capodanno avevo montato il video della giornata 13 e 14, manca solo la fesca ma poi per chi mi segue su Instagram sa che sono partito per Capodanno sono stato via 6 giorni e quindi sì sono scappato lo so ragazzi dai l'avete fatto tutti sono partito per Capodanno e quindi ragazzi non ho avuto modo di poter portare a termine questi due video infatti sicuramente farò una cosa molto rapida e in due giorni penso e spero di poterli veramente pubblicare tutti in modo a mettere a fine a questa cosa tanto oggi si gioca addirittura la giornata 16 se non vado errato e infatti oggi c'è la sedicesima, tra poco inizia a Cagliari per l'evento e ragazzi niente io direi di cominciare direi di intanto andarvi a vedere i risultati si parla qui della giornata numero appunto 13 adesso andrò deve essere la decima giornata di fantacalcio se non ho mai errato esattamente allora l'FC Roma batte 2 a 1 la C Salute lo Squarta Praga batte 5 a 0 e Blaugragna e l'Aston Birra batte 2 a 0 i raccattati la classifica aggiornata ad ora recita Squarta Praga 33 punti l'Aston Birra 32 punti l'Aston Birra 29 punti Blaugragna 22 punti e i raccattati 13 punti adesso ragazzi do la parola al campo per i restanti punti in palio per questa classifica di questo fantacalcio 2020-2021 ormai chi segue la serie sa già cosa andrà a succedere ed eccoci su FIFA ragazzi ed è il kart lane non salio generico e qua si svolgerà appunto FC Roma contro AC Salute sotto il sole di dicembre ovviamente ragazzi i giocatori maniche corte anche se fa un po' freddino c'è chi è in polo e pantaloncini ragazzi tra gli spettatori sebbene avessi messo inverno però vabbè scelte artistiche di questo fenomeno chiamato EA fenomeno ovviamente eronico visto che mi sono appena fatto una weekend league e i risultati sono stati parzialmente buoni ma molto diciamo da querela per per il mio modo di reagire a tutto ciò che è successo durante questa weekend league ragazzi noi siamo qua adesso per parlare di altre sono qua per appunto raccontarvi questa tredicesima giornata di fantacalcio queste due squadre sono già incontrate della verità lo scorso turno fu la prima giornata che ha giocato su FIFA 21 e la C Salute vinse 4 a 1 con gol di Lukaku insegnato a Romartinez e Gomez dunque Silvestri porta per l'FC Roma divisa Atebur Smalling e Skriniar centrocampo Barella Soriano Veretù Zeninski e Giopp e altro dietro a Belotti e Giacomo Mirante Nabroso Zappacosta Derun Ramsey Zapata e Muriel in panchia ragazzi Muriel capo canoniere di questo fantalega chiamiamola così mischiata tra la nostra lega reale e il fantac e insomma le formazioni che provano di giocare su FIFA Muriel attualmente ragazzi capo canoniere a 6 reti insieme a Romelu Lukaku per la c salute Donna Rumma in porta in difesa Godin Frohler e Romagnoli perché Hernandez era non ha giocato contro il Genoa no scusate Hernandez che si Minasciuk e Casiego Ribéry e Lukaku e Lardo a Martins è stata una stronzata e semplicemente ho butto da un ruolo da esterno a Hernandez fatto da che si comincia nono minuto Belotti per Gekko dentro Giovaped da solo davanti a Donnarumma batte il sinistro e batte pure il portiere numero 99 e fa subito nono minuto 1-0 Giovaped ragazzi giocatore che comunque si sta facendo notare in questo fantacalcio non so su FIFA poiché sappiamo che è il bomber del Cagliari giocatore che secondo me fosse andato via dalla Sardegna avrebbe sicuramente ottenuto molto di più sappiamo che comunque le offerte per questo giocatore non sono mai mancate a dir la verità e quindi gol dell'1-0 di Gio Pedro che decide di aprire le marcature contro C Salute che comunque ricordiamo che in difesa non è messa benissimo perché sta utilizzando Froyer come centrale di difesa perché date anche le varie assenze quindicesimo Dzeko per Zieninski largo va il cross Donnarumma smanacca via poi Barella tira due volte incontra il muro della C Salute ancora Soliano che si fa portare poi via palo da Castiglieco ventisettesimo Verretù per Gio Pedro c'è un mare Belotti conclude malissimo posizione a regolare Donnarumma blocca 31esimo Lukaku prima azione della C Salute dentro Castiglieco paradissima di Silvestri ma l'arbitro ravvisa posizione irregolare dell'attaccante spagnolo infatti vediamo che la posizione del tuo gioco è veramente netta proprio indiscutibile 61esimo che si dentro per Lukaku che cerca Toro Martinez incontra sul suo percorso a Tebur 63esimo Barella va il cross dentro palla messa fuori ancora Barella che va ancora al cross di testa Belotti palla fuori vediamo le play c'è però il tocco di Remo Froller quindi calcio d'angolo 66esimo Zeninsky a paleto verso Giacco di testa palla larga rispetto alla porta di Gianluigi Donnarumma però probabilmente qua c'è anche il tocco di Godin si va dopo il replay al minuto 70esimo sostanza Barella va il cross dentro la prende male Godin e poi Giova Pedro può concludere davanti a Donnarumma ma è pronta la difesa Ribery all'ottantesimo per Lukaku dentro trova Perisic di testa che però era un fuorigioco era un buono spunto per Ribery ragazzi che Ribery è titolare poiché Insegne era squalificato dopo il rosso rimediato contro l'Inter quindi ha giocato Ribery al suo posto perché anche Ozyman è infortunato la Torra Martinez è dentro per Ribery 89esimo di testa che è debolissimo Silvestri non ha problemi a fare solo la palla si va al 93esimo Lukaku ultima azione Lukaku ancora presise dentro per Ribery davanti a Silvestri un gol più o meno come quello di Giova Pedro e trova la rete di Parigi in sostanza a 5 secondi dallo scadere del recupero e così evita la sconfitta e la FC Roma fa 4 punti su 6 in palio e mentre la Cisalutri si accontenta comunque di un punto solo su 6 disponibili assist di Lukaku dentro probabilmente ci deve essere stato un frendendimento tra Smalling e Atebur comunque sia Ribery non sta facendo un grande campionato però sono gol che lui normalmente non sbaglia e fu così insomma che apparietemi a un pareggio perché in sostanza adesso batteranno il calcio d'inizio ma non ci sarà assolutamente tempo per poter pensare a un'azione appunto finisce qui col tocco di Atebur la classifica recita Aci Salute 33 punti squadra Praga 33 punti FC Roma 33 punti Aston Birra 29 punti la Ucrania 22 punti i raccattati 13 punti ragazzi prime 4 posizioni che sono veramente in a partita veramente aperta sono assolutamente in gioco si va si va al BC si va al BC play stadium di Vancouver doggio crano i raccattati contro Aston Birra Aston Birra adesso vado a leggere lo score dell'ultima giornata che era la giornata 12 Aston Birra che viene dalla vittoria per 1 a 0 contro il momentano leaders quarta Praga dove Ronaldo per chi ha visto il video ha sbagliato il calcio di rigore che tra l'altro ha sbagliato sia nella vita reale che nel calcio reale che su FIFA nella realtà l'ha parato Gollini qua l'ha parato Nannovic e Simeone ha purgato la squadra di Cristiano Ronaldo detto questo ragazzi questa è la formazione della Ston Birra che appunto adesso si gode l'inno della Serie A di sottofondo sappiamo che comunque la Ston Birra è una squadra che ha fatto un mercato prettamente difensivo e centrocampo attaccanti comunque di qualità ma non assolutamente livelli degli attaccanti almeno delle altre quattro squadre togliendo ovviamente i raccattati ragazzi a mattina ogni volta che faccio questo video di mattina e non di notte come di solito sono lo solito fare che d'altro detto come di solito sono lo solito fare grandissimo italiano 10 più ok vabbè detto questo ragazzi questa è appunto la solita formalità della stretta di mano formazione adesso del dei raccattati eccola qui siamo comunque già entro a vedere diversi giocatori già visti nel corso di questi fantacalcio tra cui appunto Cragno Radu Colle Piraghi che tra l'altro ha anche trovato vede il gol un paio di giornate fa contro l'FC Roma il gol comunque apparentemente inutile perché l'FC Roma ha stravinto quella partita ma comunque buon punto a favore di Cristiano Piraghi qua forse ha deciso di non farci vedere le formazioni perché ogni tanto succede questa cosa che non ci vuole far vedere le formazioni e comunque ragazzi si può partire col tocco di Zaccagni nonno minuto farà dentro verso Piraghi che va al cross verso Lasagna la pari ma è lì a chi mi chiesa che poi si appoggia ad Andanovic undicesimo Simeone trova Caputo Quagliarella ancora Simeone dentro per Quagliarella sinistro limite dell'area batte Cragno e fa 1-0 per la Stombira Fabio Quagliarella che continua a segnare senza problemi il capitano della Stombira e fa apre marcature contro i raccattati ora sto cercando lo score della volta scorsa mi pare che finia 2-1 per la Stombira e segnò mi sembra Barrow e Barrow e Simeone se non moderato Barrow non forse Barrow e Pasalic 5 giornate fa insomma comunque Fabio Quagliarella apre le marcatura all'undicesimo minuto e insomma riporta la Stombira tra le pretendenti per il primo posto si va al ventesimo Milinkovic Savic di tre da palla col corpo Quagliarella dentro per Simeone che si gira ancora per Fabio Quagliarella apparato poi Caputo non sbaglia ormai Cragno era a terra è gioco da ragazzi per Francesco Caputo che fa 2-0 per la Stombira e trova la sua seconda rete stagionale dopo che finora aveva insegnato soltanto alla prima partita contro la FC Roma proprio la quarta giornata e trova torna e trova la via del gol tanto in maniera anche piuttosto semplice ma comunque ragazzi gol facile è facile ma bisogna insomma farsi trovare lì di sinistro batte Cragno e al ventunesimo ragazzi la Stombira si mette la partita assolutamente in discesa si va al minuto 25 Chiesa per Simeone c'è Gosens liberissimo Gosens mette dentro per Caputo posizione regolare ed è 3-0 per la Stombira ancora ci c'è Caputo terzo gol stagionale partita d'altro torna Caputo dopo il lungo stop sapete che ha saltato diverso e preve il campionato Caputo trova tra l'altro qua anche un gol a vedere di scavetto nella porta di Cragno insomma secondo me di così perché ha avuto un attaccante molto molto importante molto molto decisivo e determinante peccato che potrebbe essere fuori dei mesi per prevedere l'infortuna un po' mi sembra anche covid non mi ricordo benissimo comunque 3-0 vedetevi al Diciccio Caputo ancora il 26o minuto va dentro per Zaccani 32esimo Vidal appoggia ad Andanovic e greage il lavoro di fisico di Vidal 38esimo Colle darà la difesa addirittura spiovente lunghissimo verso Lasagna Hakimi appoggia ad Andanovic minuto 40esimo Buonaventura sulla vede il 4-0 ancora Buonaventura dentro Colle difende benissimo e appoggia verso Cragno 48esimo Brozovic larga per Buonaventura dentro per Quagliarella destro parata di Cragno ragazzi la prima sostanza di questa partita 53esimo Bentancur dentro verso Vlaovic di testa e Hakimi ferma un tiro a volo di Zaccani 67esimo va Hakimi dalla banderina per la stombira Hakimi dentro verso Simeone che impatta benissimo ma troppo forte forse e la palla finisce alta sopra la testa di tutti i difensori dei raccattati ecco quali ispirazione del ciolito Giovanni Simeone 69esimo Zaccani Zaccani ancora Zaccani dentro verso Kuzka posizione altamente irregolare si vede tranquillamente anche dalla grafica fate qua ragazzi fuori gioco di almeno un metro e mezzo di Kuzka peccato perché insomma era una grande occasione comunque Andanovic è riuscito a parare non ci sono veramente altre occasioni dopo 3 minuti e 4 di recupero finisce qua 3 a 0 a Cisalute 33 punti scuota praga 33 punti FG Roma 33 punti a Stombira 32 punti la Ragnia 22 punti e raccattati 13 punti insomma ragazzi ripeto le prime 4 concentrate veramente in 2 punti di differenza anzi in un punto di differenza 2 punti in totale e in sostanza la Stombira che fa una parità perfetta perché la risolve in sostanza in neanche mezz'ora del primo tempo e poi non concede niente perché ovviamente non concede niente ha la compagine nel secondo tempo non concede niente quindi va tranquillamente a vincere la partita la terza ragazzi si gioca su PES perché appunto i Blaugragna non avevano sufficienti riserve per poter disputare questa giornata di campionato perché ragazzi i panchinari devono i panchinari su FIFA devono per forza aver giocato almeno un minuto la giornata se no ragazzi non li porto se no non avrebbe senso questa rotazione di formazioni dunque Squarta Praga contro Blaugragna si gioca su PES allo stadio Orione sotto la pioggia la volta scorsa finì 1-1 derby il caso che su PES che su FIFA Dragoschi in porta Bonucci Cullibali Milenkovic in difesa Gironoglu Diuriceci Deopole Di Mkhitaryan al centro campo Ronaldo Immobile Ronaldo dietro Immobile Morata Dimmi Gollini in porta Alexandro Delicti Spinazzola in difesa Premdi Esteri Ranzo per i clinici si è aperto al centro campo Marinovski e Ramirez dietro a Ilicic tutto ciò che vedete in panchina ragazzi non entrerà perché ho tolto le sostituzioni grande intuizione di PES che si possono decidere le sostituzioni decidere eventuali supplementari e rigori e fu così che Squarta Praga Blaugragna paluna di Milankovic verso Morata che appoggia per Ronaldo destro per Immobile scusate destro e gol dell'1-0 per lo Squarta Praga si sblocca Cire Immobile prima rete stagionale dopo insomma diverse diversi tentativi diverse partite giocate ragazzi Immobile riesce a mettere segno in sua prima rete stagionale grandissimo lancio di Nicola Milankovic dal dietro per Morata che era assolutamente posizione regolare destro di Immobile che batte Gollini e fa così 1-0 per lo Squarta Praga qua incolpevole il portiere dell'Atalanta si riparte ragazzi subito con il botto Morata dentro verso no c'è un'angolo per Morata mi chiederanno il cross Gollini la fa su ragazzi è difficile perché la squadra di casa non ha i nomi quindi mi tocca andare leggendo i numeri Immobile appoggia per Ronaldo Gollini non riesce a bloccare comunque c'è De Ligt a raccogliere c'è poi questo fallo di Malinoski su De Paul un fallo piuttosto evidente lo va a battere c'è l'annogulo il calcio di punizione palla golli niente importa ma la palla no trentasettesimo Ramirez ancora Ramirez per Ilicic al limite dell'area Ilicic sinistro palla fuori di nulla ancora ancora la ricerca del primo gol in che ma c'è fallo di Koulibaly e quindi calcio di punizione Ilicic appunto che ripeto non ha ancora trovato la via del gol questo in questo fantacalcio su FIFA in realtà sappiamo che Ilicic la via del gol l'ha trovata diverse volte già in campionato Malinowski va alla punizione battuto benissimo però Drongovski non si fa trovare impreparato e para il palone 43esimo Malinowski ancora per Ilicic si gira sinistro perfetto nell'angolino batte Drongovski e fa 1-1 la pareggia la pareggia e Blaugragna ragazzi stessa cosa che succese la partita scorsa perché appunto andarono in vantaggio la squadra Braga e poi Blaugragna pareggiarono dopo veramente poco tempo anzi si trattava in entrambi i casi al primo tempo e quindi gol di Ilicic che trova finalmente la sua prima marcatura stagionale su FIFA barra PES ovviamente ripeto nel campionato reali la via dei gol Ilic ce l'ha già trovata tra l'altro il ragazzo che quando è in forma può veramente fare quello che vuole un giocatore dalle mille mila doti sostanza un oggettivo si avrebbe sprecato Michele Terena il 45esimo largo verso Ciananoglu che va al cross Morata stacca benissimo prima di De Ligt e di Alessandro a parte che era in fuorigioco la palla comunque era finita alta grande comunque gesto di Morata peccato che comunque si è impattata una cosa che riesce meglio avere un fuorigioco 49esimo Ronaldo destro Gollini in due tempi perché il Trinato era veramente potente ci siamo abituati a questa cosa Immobile al 67esimo destro dentro Malinowski la fa sua e la fa fuori Alexandro al 70esimo dentro verso Ilicic esce Drongoski comunque Bonucci stava coprendo benissimo un attaccante in forza all'Atalanta pala per Morata che va di destro a concludere prende il palo poi Spinazzola mette fuori al 78esimo 82esimo Ronaldo ancora Ronaldo va di destro Gollini non riesce a bloccare e la manda rimessa laterale ancora Ronaldo pericoloso con voglia di segnare che però ragazzi è segnato solo un gol Ronaldo fino ad adesso 83esimo De Paul va dentro verso Morata che rimane lì respinge poi due volte Gollini strepitoso salva il risultato e ragazzi prestazione di Gollini veramente ottima anche perché non poteva fare niente il suo primo gol Morata largo per Michi Terrandento De Ligt appoggia Gollini blocca 86esimo non ce la fanno più Ronaldo per Immobile sinistro palo e rete ragazzi Immobile all'ultimo minuto risolve il match con la doppietta ragazzi primo e secondo gol in campionato per Ciro Immobile che va ad abbracciare tutto lo staff con la panchina e in sostanza chiude quasi la partita rimane veramente poco tempo a Evlogragna per poter pareggiare con soddisfazione personale per Ciro Immobile che comunque ripeto fino a su FIFA Barapest se non è che avesse fatto chissà cosa invece è venuto a dimostrarcelo proprio oggi di cosa è capace con due reti sinistro qua potentissimo Gollini sulla trattoria c'era tranquillamente ma veramente troppo angolato palla che colpisce il palo e va in rete gol che assolutamente non sporca la prestazione del portale numero 95 perché comunque è stato determinante in diversi casi detto questo ragazzi si manca veramente poco ottantanesimo Ilicici ci prova a sinistro Dagoski blocca senza problemi non dovrebbero esserci altre occasioni appunto finisce qua ragazzi adesso vi leggo la classifica squadra Praga che conduce a 36 punti a Cisalute 33 punti a Stombina 32 punti a Stombina 32 punti Blaugrani ha 22 punti raccatati 13 punti detto questo ragazzi si va verso la giornata prima di Natale con lo squadra Praga intesa 36 punti ragazzi vittore è metatissimo perché comunque all'interno di tutto ho fatto molto di più rispetto a Blaugrani in questa partita detto questo ragazzi noi ci vediamo entro i due giorni promesso vi porto la giornata 14 che ho già registrato tempo fa intanto vado anche a registrare la giornata 15 a 16 detto questo vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale e vi può dare anche gli altri video se volete detto questo grazie e ci vediamo presto